Dei Yulikwai abbiamo imparato a conoscerlo anche come regista per chi ancora non avesse visto i suoi film lo conoscevamo appunto già come straordinario direttore della fotografia uno dei grandi direttori di fotografia asiatici in attività e di Jia Zhang Ke è non solo il direttore della fotografia pressoché abituale ma è anche un sodale perché condividono la Xtreme la casa di produzione dei dei loro film insomma è una figura particolarmente attiva e importante nel senso